Un incidente stradale a Milano ha lasciato tre feriti. Tra cui un ciclista ucraino di 43 anni che versa in gravi condizioni. La donna ha riportato diverse fratture e sarà sottoposta a un intervento chirurgico. Le dinamiche L'episodio è avvenuto mercoledì mattina in corso 22 marzo. Ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltata provocando uno sversamento. Palo caduto addosso ad una donna che viaggiava in bicicletta. Il luogo dell'incidente. Nel corso del 22 marzo a Milano l'auto era guidata da una donna di 73 anni e sul sedile accanto. Sedeva un uomo di 78 anni. La ciclista di origini straniere è rimasta incastrata sotto il palo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarla. Sul posto stanno effettuando accertamenti i carabinieri. Il testimone. L'auto andava veloce. Ho sentito un botto incredibile. Mi sono affacciato al negozio e ho visto l'auto volare. Racconta un testimone che lavora in anattività commerciale davanti al luogo dell'incidente. L'ho vista cadere. Atterrare sul palo e piegarsi. Con la ragazza in bici che si faceva male. La macchina andava forte. Non sapevo che fossero in due dentro. Ho visto solo la ragazza. Mi ha scioccato. Era cosciente ma gravemente ferita.